Io questa mattina ho aperto normalmente come tutti i giorni il negozio, l'allarme era in regola, quindi non è scattato durante la notte, rientrando in negozio mi sono trovato una barriera che probabilmente è servita ai ladri per coprire l'ingresso, visto che ci sono delle telecamere che poi sono state messe fuori funzione e hanno portato via tutte le scorte delle sigarette, i fondi cassa, gli incassi degli ultimi due giorni e tutti i dati vinci presenti il negozio, purtroppo la zona è abbastanza abbandonata a se stessa.